Benefici sulla salute del Ganoderma lucido Il mistero del Ganoderma Adesso forse ti starai chiedendo che cos'è in questo incredibile Ganoderma. In cantonese l'inzia è il nome di una delle specie del primo Ganoderma lucido. Gode di un merutevole posto in Asia dove viene usato nella medicina tradizionale asiatica da oltre 4.000 anni. In Cina è anche conosciuto come il miracoloso re della titoterapia. Grazie alla Cina ma anche ad Organo Gold, ad un sempre crescente team di distributori internazionali, la sua storia si sta diffondendo nel resto del mondo. La storia del Ganoderma risale a circa 5.000 anni fa. In Cina era chiamato Lingzi e si presuppone facesse parte della nutrizione destinata all'imperatore. Solo l'imperatore e gli ufficiali facenti parte del ragno più elevato potevano avere accesso a questo tipo di Ganoderma. In quel tempo la disponibilità era ridotta e era molto difficile riperirle. L'applicazione era destinata ad un uso salutistico specificatamente per aumentare il sistema immunitario. Questa è la buona notizia del Ganoderma. È solo di recente che ci è stata data la possibilità di mettere a disposizione di tutti quanti noi questo prodotto. Attraverso un metodo commerciale diamo la possibilità a tutti di beneficiare delle proprietà di questo prodotto. Cina è un antico paese con una storia molto profonda. Trane origine nell'area est del ciume giallo sin dai tempi dei tempi. La civiltà cinese ha oltre 5.000 anni di storia. E' una delle quattro civiltà più antiche del mondo. Adesso ha di nuovo preso il giusto posto nella storia. La piantagione cinese Organo Gold. Certificato 100% biologico Ganoderma. È una vista con un'esperienza entusiasmante. È stata veramente un'idea geniale. Difondere il Ganoderma attraverso caffè, tè e cioccolata calda. Noi abbiamo il Ganoderma re della fitoterapia. Non un Ganoderma qualsiasi ma il Ganoderma lucidum. Il Ganoderma lucidum biologico al 100%. È così potente. Noi lo proviamo, lo offriamo come bevanda agli altri, con incredibili benefici sulla salute. Una volta che le persone cominciano a sentirsi meglio, non ne possono più fare a meno. Ganoderma ha più di 4.000 anni di storia. Ma Organo Gold è un'azienda in continua crescita, ben gestita e finanziata. Con lo scopo di garantire il futuro successo ai distributori a livello mondiale. Continuiamo ad aggiungere nuovi eccezionali prodotti che i consumatori richiedono. Sotto la direttiva del presidente fondatore Bernie Schein. I prodotti Organo Gold sono stati scientificamente sviluppati sotto forma di caffè, tè, deliziose cioccolate come pure prodotti per la pelle. Ovviamente ogni prodotto ha come ingrediente il Ganoderma, pilastro fondamentale di Organo Gold. Attualmente abbiamo Ganoderma lucidum in polvere. Abbiamo anche polvere del micelio di Ganoderma lucidum, 100% vegetale. I prodotti Organo Gold sono attualmente caffè, caffè latte, caffè nero, caffè mocha e delizioso cioccolato. Ora è disponibile anche il tè verde biologico con il Ganoderma lucidum. I prodotti che aiutano le persone, i racconti e le testimonianze della gente sono semplicemente incredibili. Perché hanno avuto veramente dei cambiamenti radicali sulla loro salute e nella loro vita, positivamente.